Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 9 gennaio 2020, siete sul canale 17 di FanoTV e questa è la rassegna stampa del mattino alle 7 precise puntuali come tutti i giorni, da lunedì al sabato, leggiamo i giornali, sfogliamo i quotidiani delle Marche, in particolare il resto del Caino e il Corriere Adriatico, concentrandoci prevalentemente sulle edizioni della provincia di Pesurbino, ma andando a sbirciare qua e là anche nella cronaca delle altre località marchigiane. Adesso però andiamo a vedere il calendario, che questo è uguale per tutti, la Chiesa Cattolica oggi ricorda San Giovanni di Scete, ma ricorda anche San Marcellino. Ad Ancona San Marcellino Vescovo, come scrive il Papa San Gregorio Magno, con la potenza divina liberò la sua città da un incendio. Il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 16.49. Per quanto riguarda il tempo, cari telespettatori, non è che c'è molto da dire. In questi giorni di cielo sereno, con temperature certamente rigide, soprattutto la notte, con gelate notturne per effetto dell'irraggiamento e dell'inversione termica, quindi fate attenzione soprattutto anche alla strada. Guardate sempre se ci sono i segni delle ruote, delle macchine sull'asfalto, significa che c'è del ghiaccio, quindi prestate attenzione. Oggi c'è poco da dire, cielo sereno, poco nuvoloso. Domani stessa cosa, cielo sereno, poco nuvoloso, fine settimana con qualche foschia nei fondovalle, ma per il resto c'è poco da aggiungere. Stabilità, stabilità meteorologica anche per la giornata di domenica e l'inizio della prossima settimana. E adesso andiamo a vedere subito i quotidiani. C'è una notizia che il Corriere Adriatico apre pubblica in esclusiva, una notizia che riguarda la politica, la politica regionale, ovvero l'ufficialità della candidatura del Movimento 5 Stelle e del ex rettore della Politecnica Sauro Longhi, che annuncia così la discesa in campo appunto per le regionali. Mi candido a governatore per l'area che va dal PD al Movimento 5 Stelle, agli altri partiti del centro-sinistra, dice, e anche alle liste civiche. Spiace per Ceriscioli, ma serve discontinuità. E c'è questa intervista all'ex rettore appunto dell'Università Politecnica delle Marche. A centro pagina invece, restando nell'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico, che ressa al concorsone. Questa è la fotografia scattata ieri ai cancelli del Vitri Frigo Arena, dove c'è stato questo concorso per 30 posti da infermiere in Abruzzo, candidati dal sud al centro Italia e c'è chi ha viaggiato tutta la notte in Pullman, mentre spalla qui la denuncia di un ragazzino che ha fatto incastrare il Bullo, il ragazzo di 18 anni, lui ne ha 16 invece, che lo ha bullizzato nell'autobus, un minorenne derubato, picchiato alla fermata. La vittima però alla fine ha preso coraggio a due mani e ha reagito una volta per tutte, denunciando tutto alla polizia. Questa invece è la pagina di Pesaro del resto del Carlino. Il ragazzino si ribella, preso il Bullo, un 18enne ruba portafogli sul bus e picchia il minore che lo rivoleva indietro, arriva la polizia ed è stato denunciato. Un bimbo che non è stato vaccinato, il papà e la mamma finiscono davanti al giudice, è riscritto in un asilo di Gabic. A centropagine invece la fotonotizia è per Massimo Renelli che ieri si è presentato davanti al giudice, dice non riesco a darmi pace, il camionista che ha travolto Elisa e Sonia è finito ai domiciliari. Lui dice ancora un'auto mi ha abbagliato, non le ho viste, ora vorrei incontrare i familiari di quelle due donne, il padre e il fratello di Sonia sono però risoluti e dicono no, non lo perdoniamo, non abbiamo intenzione di incontrarlo. Per salvare invece la VL, sempre in prima pagina, ora si muove anche Bianchini, una nuova accordata punta a rilevare la società. Mentre l'edizione di Pesaro, Corinaldo, Corte d'Assise il 13 marzo, i sei della banda dello Spraia, processo con il rito immediato per associazione a delinquere, lesioni, gravi e furti. Poi macerata con Osegale che vuole un nuovo processo, Pamela e il nigeriano va in appello, chiesta l'archiviazione per i due accusati di aver approfittato della ragazza, ma a centro pagina la fotografia, guardate che spettacolo, famiglia extra largia, Montefano, Rossella a Cattoli con la sua famiglia, allora cerchiamo di individuare chi è perché qua si fa fatica, allora lei è Rossella e lui è il marito e questi sono i dieci figli che ha e parla questa mattina al giornale, racconta la sua splendida e straordinaria vita di mamma di dieci figli con un marito. Lo vedremo in fondo alla nostra rassegna stampa, in chiusura. Ma adesso torniamo alla vicenda, alla tragedia dell'Epifania, il camionista sconsolato, questa è l'immagine, uno scatto che dice più e racconta più di mille parole, il camionista di Senigallia che ieri ascolta, guarda probabilmente il giudice che sta parlando di lui nel tribunale di Ancona, lui dice ancora non ho pace, vorrei incontrare i familiari delle due donne, lui adesso è agli arresti domiciliari e insiste non andavo forte ma non mi posso perdonare. Avevo percorso, dice Renelli, avevo percorso pochi metri di strada e un'auto che proveniva dalla parte opposta alla mia mi ha abbagliato con i fari, poi ho sentito di aver urtato qualcosa ma era buio e non si vedeva nulla, ho sperato fosse un animale, adesso non mi do pace, vorrei incontrare i familiari di quelle due donne. Le due donne, lo ricordiamo ancora, sono Sonia Farris, 34 anni, parrucchiera, ed Elisa Rondina, 43 anni, insegnante, entrambe di Colli al Metauro, mentre lui, il camionista, 47 anni, senigalliese, ieri molto provato, pentito per quanto accaduto e non si è sottratto alle domande del giudice spiegando minuto per minuto quello che ricordava di quella sera. E poi ancora, in discoteca, il camionista racconta il resto del Carlino, era stato un paio d'ore, era arrivato intorno all'una e mezza di notte dopo aver cenato con la ex compagna e i loro due figli. Renelli non era solito andare in discoteca ma quella sera è stata la sua compagna ad invitarlo a passare perché ci sarebbe stata anche lei. Peraltro, parlando con i suoi avvocati, il camionista si sarebbe amaramente pentito di aver fatto quella tappa lasciando intendere che se non ci fosse passato non sarebbe accaduto nulla, ma sappiamo benissimo e questa non è soltanto saggezza popolare ma che con i sé e con i ma non si va tanto lontani. E adesso l'altra pagina, le altre pagine che parlano ancora oggi di questa tragedia che ha colpito due famiglie, quelle di Elisa e Sonia. Anche qui, abbagliato da un ato poi il botto, non mi do pace, chiedo perdono, non mi sentivo alterato, vorrei incontrare i familiari. Renelli ricostruisce questa tragedia, qui siamo sul resto del Carlino però l'edizione di Pesaro, mentre la pagina di prima era l'edizione di Ancona. Oggi si terranno le autopsie per chiarire la dinamica, l'accertamento richiesto dalla Procura inizierà alle 9 di questa mattina all'ospedale di Torrette. Ci attiveremo subito, dicono gli avvocati, per soddisfare i profili risarcitori delle vittime tramite l'assicurazione. Ho sbagliato, qui siamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, non mi do pace per le vittime, voglio chiedere perdono alle loro famiglie, donne falciate uccise Renelli davanti al giudice, era buio, i fari di un'auto mi hanno abbagliato, ho sentito un urto e la parte civile, chi è colpevole? Ora deve pagare. L'avvocato illegale di Sonia Farris a sole nomina due periti di parte, dito contro l'investitore, la somministrazione di alcol e anche la strada, che come abbiamo visto più volte, anche addetta dai residenti, è una strada maledetta. Importante appurare la velocità della vettura, piange il camionista messo ai domiciliari, li sconterà a Senigallia, a casa della mamma. Questa invece è la pagina del resto del Carlino, di nuovo di Pesaro, dove il giornale ha incontrato i familiari di Sonia, in particolare il fratello e il padre di Sonia Farris, li ha incontrati nella tavernetta, davanti a loro vedete la foto della figlia morta, sopra invece un'immagine sorridente di Sonia e sotto il legale della famiglia Farris. Lui vuole incontrarci? Noi no. Non possiamo guidare, non puoi, gli mandano a dire, non puoi guidare così ubriaco. La rabbia di Andrea e Giuseppe, il fratello e il padre della parrucchiera travolta, è uccisa insieme all'amica, non è stata una disgrazia, resti in galera, anche se ci dispiace per la sua famiglia. Ed è il racconto di quello che può essere il sentimento, la rabbia di un padre, di un fratello, di tutti coloro che hanno voluto bene, che ricordano con tutto l'affetto possibile, l'amore possibile, una figlia che adesso invece non c'è più. E c'è tutto il racconto che troverete nel giornale di oggi. Prima di chiedere, rifletta ancora, mandano a dire su che cosa ha fatto. L'avvocato dice troppe frasi in questi giorni, da lui e dai suoi avvocati, consiglierei silenzio. Coinvolto emotivamente anche il cugino, dice sono il cugino del papà di Sonia prima del perdono, serve la giustizia. Capisco le strategie processuali, faccio l'avvocato anche io, ma una richiesta di perdono avanzata in questo momento ha l'unico scopo di ottenere sconti di pena in un eventuale patteggiamento. Si scalda l'avvocato della famiglia Farris leggendo le dichiarazioni rilasciate nell'ultima 48 ore da Renelli. Ho il massimo rispetto per i colleghi che lo seguono, capiscono che fanno la loro difesa, ma vorrei che il ragazzo avanzasse la richiesta di perdono, e lo dico da legale, ma anche da uomo coinvolto, essendo il cugino del papà di Giuseppe, quando e se prenderà davvero coscienza di quello che ha fatto. Quindi parla emotivamente e dice sono il cugino, proprio l'avvocato a sole, che appunto è coinvolto anche affettivamente. Ma c'è un'altra tragedia che ieri nelle Marche ha colpito tantissimo, una tragedia che invece questa volta si è consumata a Fermo, in un paesino anzi vicino Fermo, dove una bambina di soli 7 anni è morta nel peggiore dei modi, nelle fiamme, che si sono sprigionate all'interno di un'abitazione, in quella che vedete nella fotografia qua pubblicata sul Corriere Adriatico. Siamo a Servignano, una bambina che aveva soltanto 6 anni. Si sono salvate la mamma, la sorellina di 4, il papà invece era fuori, la donna purtroppo è riuscita soltanto a salvare la più piccola, qualcosa che viene distinto immagino in quei momenti drammatici. Poi non è riuscita più a rientrare nell'abitazione in fiamme perché il calore era fortissimo. E quando sono arrivati i pompieri, quando sono entrati i carabinieri, purtroppo per la sorellina maggiore e per la figlia più grande non c'era più nulla da fare. Shock e dolore in paese. Una tragedia che è iniziata alle 2.30, 2.35, quando la mamma si sveglia perché sente odore di fumo, porta fuori subito la bambina più piccola. Cinque minuti dopo la donna prova a rientrare a casa per prendere l'altra bambina ma il fuoco divampa. Alle 2.45, 10 minuti soltanto. Dal momento in cui si accorta che qualcosa stava andando a fuoco, arriva sul posto una pattuglia dei carabinieri che allerta subito i vigili del fuoco e il 118. Alle 2.50 i carabinieri fanno evacuare i residenti degli appartamenti vicini mentre cinque minuti prima delle tre i militari provano per ben due volte ad entrare in casa ma arrivano alle 3.10 arrivano sul posto i vigili del fuoco da fermo, alle 3.20 spengono il fuoco e tirano fuori la bambina che purtroppo però nonostante i tentativi di rianimarla. Non ce la farà e dunque morirà. Questo è il racconto che Laura Meda scrive stamattina sul Corriere Adriatico. Il fuoco tra l'altro sarebbe scoppiato in cucina probabilmente dal forno ma le indagini sono ancora in corso e il racconto della donna di 38 anni che adesso è ricoverata al murri dice sono corsa da lei ma il calore mi ustionava. Il marito invece che non era in casa lavora in una di tedile del posto e dice sono stata svegliata dal fumo dal bagliore addirittura delle fiamme ma l'incendio aveva già avvolto gran parte della casa sono riuscita a prendere con me soltanto la più piccola delle mie figliolette ed è questo il drammatico racconto della madre. Le due bambine sono a causa dei problemi legati al trasloco, la figlioletta non era stata iscritta a scuola, la famiglia era poco conosciuta perché erano arrivati a Servigliano da pochissimo tempo. Le reazioni in paese invece stavo lavorando a pochi metri, potevo aiutarla con l'estintore, i vicini di casa non ci siamo accorti di nulla, poi hanno suonato i vigili del fuoco e ci hanno detto di uscire. La vicenda di quel ragazzino coraggioso che a 16 anni ha avuto appunto la forza di denunciare il suo aguzzino, il suo bullo sull'autobus e al 15enne sono stati sottratti 250 euro che erano il regalo dei familiari per le feste di Natale. Lui racconta tutto alla polizia. La polizia poi ha svolto le indagini anche perché il ragazzino aveva notato la targa dell'auto nella quale era salito dopo essere sceso alla fermata questo diciottenne, questo bullo e alla fine insomma l'esito qual è stato? Che insomma che questo ragazzo di 19 anni, anzi non 18, l'aggressore è stato individuato, segnalato all'autorità giudiziaria per rapina. Insomma non è una bella cosa, mentre ha fatto un qualcosa che dovrebbe essere imitato il giovane, spesso non dimentichiamolo e questo lo dicono gli esperti che vanno anche nelle scuole, nelle classi per dire che bisogna parlare, bisogna denunciare, bisogna non avere paura e dunque questo gesto, questo ragazzo dovrebbe essere, come dicevo anche ieri nel telegiornale, dovrebbe essere premiato così che anche gli altri possano imitarlo. La moglie invece lo caccia, lui annuncia il suicidio. La moglie probabilmente aveva scoperto che l'uomo, un quarantenne di Montecchio, siamo sempre nel Pesarese, lo tradisce e ha capito che è qualcosa, che aveva una relazione extraconiugale, così le ha detto adesso prendi la valigia, esci di casa e vattene per la tua strada, così più o meno potrebbe aver detto la moglie a questo uomo. Lui ha detto va bene, prendo e parto, così è partito, è andato via, però poi qualche cosa nella testa di quest'uomo deve essere scattato. Cosa ha fatto? Ha cominciato a mandare messaggi alla moglie, all'amante, ai genitori e agli amici, a tutti quelli che conosceva. Una serie di messaggi del tipo grazie di tutto, ma la faccio finita, scusatemi se vi do un dolore. Capite voi insomma che cosa può aver scatenato questo tipo e tenore di messaggi. Aveva scritto a tutti quanti e tutti quanti si sono messi disparatamente alla ricerca di quest'uomo, comprese le forze di polizia che in mezza Italia l'hanno cercato seguendo le celle telefoniche che per un attimo l'hanno posizionato in Piemonte, dove poi effettivamente è arrivato, poi a un certo punto l'hanno ritrovato, riposizionato sempre attraverso le celle telefoniche, di nuovo vicino casa. A quel punto lui ci ha ripensato, è tornato dalla moglie, non si sa se l'ha perdonato, ma alla fine tutto è rientrato e non è stato nemmeno denunciato per procurato allarme perché effettivamente la volontà di farla finita insomma c'è stata e di conseguenza c'è stato semplicemente un ripensamento e questo già è quello che conta anche per la polizia. Mentre Senigallia ha quasi un anno dal ritrovamento in spiaggia di un piede mozzato in una scarpa da tennis numero 44, a distanza di un anno dicevo emergono nuovi elementi che riaprono il giallo dei resti umani trovati alla foce di Regnola che si trova a San Benedetto del Tronto. Ora sia il piede sia il busto rinvenuto il 18 novembre del 2018 riaprono il caso di Camilla. Chi è Camilla? È un transessuale che non si trova più, è scomparso, una trans brasiliana, è scomparso da Marina di Montemarciano la sera del 3 luglio del 2018 e adesso si pensa che tutto questo possa appartenere al corpo di quest'uomo. Mentre a Fano il resto del Carrino apre con il nuovo piano regolatore generale. Zero case ma più strade verso nord. Le previsioni di Federico Pierini. Ogni giorno 6.000 concittadini vanno a Pesaro. Servono assi viari rapidi. Il 2020 dunque sarà l'anno del piano regolatore. La maggioranza accelera sulla programmazione urbanistica della città di Fano. Martedì sera nella residenza municipale il primo incontro di maggioranza. Tra le priorità la nuova strada di collegamento con Pesaro visto che sono 6.000 i fanesi che ogni mattina, dice Federico Perini, il capogruppo del PD, si spostano verso il capoluogo. E poi l'altra pagina invece sempre di Fano. Da San Costanzo muore una maestra elementare benvoluta da tutti. A San Costanzo la comunità è in lutto per la scomparsa a soli 48 anni di Federica Frattesi. È un'insegnante alla scuola primaria del paese che si è spenta ieri mattina all'ospedale regionale di Ancona dopo una lunga e impari battaglia contro un brutto male. Sposata con Marco Sonante volontario di protezione civile, presidente dell'Associazione Musicale della Concordia e anche mamma di una ragazza di 17 e di un maschietto di 11. Federica è una donna stimata e benvoluta da tutti alla quale il dramma della grave malattia non è riuscito a toglierle mai il sorriso. Ed eccola qua in questa bella foto pubblicata sul giornale di questa mattina. Mentre da Fano sempre un'infermiera protesta, mi negano gli aumenti solo perché sono stata assunta col diploma ad hoc ma senza maturità nell'aurea, non ottengo gli scatti di anzianità come tutte le altre, la terza volta che vengo respinta per la progressione di carriera. Vecchia stazione di Calcinelli, invece Aguzzi punta a prenderla in concessione contro il degrado, ci potremmo, dice il sindaco, fare un largo parcheggio per coloro che vanno in centro. E poi quest'anno il pupo di Carnevale torna all'antico con la cartapesta di cartone, i ragazzi saranno i protagonisti, fervono in questi giorni i preparativi per la sfilata carnevalesca del Vulona a febbraio. Due giovani sono gli artefici della costruzione e loro dicono basta con la vetroresina utilizziamo i materiali sani. L'Inps invece a Pesaro riconosce l'assegno al tifoso della visa affetto da SLA, Daniele Mei, vedete mentre incontra qui il sindaco Ricci, l'annuncio è proprio del sindaco, il nostro intervento è stato ascoltato, adesso resta da capire se Daniele può sottoporsi a cure sperimentali in Italia. L'Inps ha emesso un provvedimento in autotutela per concedere comunque l'accompagnamento. E ancora dai quotidiani di questa mattina, guardate la Viti Frigo Arena, ieri al mattino presto ha praticamente presa d'assalto da oltre 4.000 persone, tutte lì per partecipare ad un concorso che alla fine assegnerà soltanto 30 posti da infermiere. Molti non si sono presentati, ieri c'era il questionario, solo mille di loro saranno ammessi al concorso, la nottata passata da qualcuno, anche dormendo proprio sul pullman, per arrivare in tempo. Qualcuno è partito dalla Puglia alle 3 e mezzo del mattino, tornando a casa sempre nel mezzo della notte e il giorno dopo, come sempre, puntuali al lavoro, così dicono loro. Poi c'è un appuntamento invece di sport, la VL sappiamo tutti non va bene, anzi va malissimo, ma si parla di sport perché ieri a Pesaro è stata presentata la Final Eight, prima volta all'arena e dunque Pesaro che si rifà con la Coppa Italia, un nuovo mega tabellone come al Madison Square Garden di New York, Ricci dice ci serve per ritrovare anche più energia. La politica con la svolta del Partito Democratico, l'annuncio di Gostoli che chiama il Movimento 5 Stelle e debutta la coalizione allargata. Dopo il confronto Zingaretti-Ceriscioli a Roma, domani il centro-sinistra incontra anche i vertici pentastellati. Il Comune, torniamo a Fano, per questa vicenda che vi abbiamo raccontato ieri nel telegiornale delle 20 e 30, che troverete, potrete ascoltare di nuovo in replica in televisione alle 11 e alle 13 e 45, 13 e 50 e un demanda sempre sul nostro sito, quando volete. Il Comune prima ordina la bonifica e 14 anni dopo fa battere il capanno. Il terreno è di proprietà pubblica, la rabbia dell'affittuario mi hanno dato 12 ore di preavviso e poi le ruspe hanno buttato giù quella che vedete qua è la capanna della discordia. Parcheggi più cari, nessun accordo, sempre a Fano a vuoto l'incontro di ieri fra assessori e rappresentanti delle associazioni, continuo questo braccio di ferro tra le associazioni di commercianti e il Comune di Fano sull'aumento del parcheggio a pagamento in centro storico e nella zona mare. Ieri, nella sede dell'ufficio turismo, si è svolto un nuovo incontro nel corso del quale però non si è raggiunto nessun accordo. Poi il Tribunale, pena aggravata per la coppia di ladri seriali, avevano rubato liquori all'Ocean, una coppia di ladri ha avuto questo aumento di pena per aver commesso più furti in serie. Il fatto risale al febbraio del 2018. Appello di una mamma, salvate mia figlia, è diventata una tossicodipendente, ci sta chiedendo soldi con le minacce e non vuole entrare in comunità. In tre anni ha avuto cinque incidenti, distruggendo altrettante vetture, i genitori della ragazza non vogliono denunciarla per non comprometterla. E poi la fotografia, vedete nella immagine, un fermo immagine della telecamera del comando della Polizia Locale di Fano che ha ripreso, queste telecamere hanno ripreso il ladro in fuga con la bicicletta, era stata appoggiata un attimo lì perché il proprietario, che è un ottantenne, era andato in comando per fare delle cose. Insomma, all'uscita non ha trovato più il suo mezzo a due ruote, così è rientrato dentro e ha dovuto sporgere denunce. Poi, giustamente, essendoci le telecamere, gli hanno dato un'occhiatina e hanno visto che a prendere la bicicletta era stato un trentenne extra comunitario che martedì mattina l'ha portata via mentre appunto era parcheggiata in via Mura Malatestiana. Siamo in ritardo, non ho più tempo per andare avanti, scogliere di Sassonia l'ok della Giunta, scatta il conto alla rovescia per i lavori, ha approvato il progetto esecutivo, la barriera nel tratto tra i bagni Carlo e i bagni Gabriele, mentre a Fano, sempre dalla Valle del Metauro, dispensario farmaceutico a Dio, la Regione ne ordina la chiusura. E poi, maxiallevamento Fileni, il comitato ricorre al TARA, San Lorenzo in campo, domani assemblea pubblica per spiegare a Laurentini le ragioni della decisione. Da Urbino, invece, difendo Ceriscioli, dice Gambini, il PD lo tratta male, il primo cittadino critica, spramente, il partito del Presidente della Regione, gli addossano delle colpe, dice Gambini, che non sono sue. Dieci figli, ma non sono, una supermamma, Montefano, Rossella Cattoli, è sposata con Carlo Vescovi, non avevamo programmato nulla, abbiamo accolto i doni che ci sono arrivati. Dice, quando mi sono sposata non sapevo nemmeno cucinare, umanamente non ero pronta alle lavatrici e a gestire praticamente la casa. Semplicemente, racconta la mamma, io e mio marito, sentite che bello, ci siamo fidati di Dio e abbiamo accolto tutto quello che lui ci ha donato. Non abbiamo scelto di fare dieci figli a tavolino, sono arrivati come un dono. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti voi, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio e la Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.